Luca, capitolo 2, dal verso primo. In quel tempo uscì un decreto da parte di Cesare Augusto che ordinava il censimento di tutto l'impero. Questo fu il primo censimento fatto quando Quirino era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi registrare, ciascuno alla sua città. Dalla Galilea, dalla città di Nazareth, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betremme, perché era della casa e famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito e lo coricò in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nell'albergo. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi di notte e facevano la guardia al loro gregge. Ecco un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendè intorno a loro e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro, non temete perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno, troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lo dava Dio e diceva gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo i pastori dicevano tra di loro andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino e tutti quelli che udirono si meravigliarono delle cose dette dai pastori. Maria serbava in sé tutte queste cose meditandole in cuor suo e i pastori tornarono indietro glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto come era stato loro annunziato. In questo brano noi vediamo qualcosa di molto conosciuto, descritto. È una storia che in tutta l'Occidente viene raccontata e conosciuta in alcune religioni. si ricorda questo evento con festeggiamenti, con quello che è descritto come il Natale, la nascita di Cristo. Quello che voglio considerare con voi è il nostro atteggiamento verso la vita e verso la realtà che noi viviamo. Ognuno di noi si trova ad affrontare delle difficoltà, a volte le prove sono molto grandi e in quegli momenti ci rivolgiamo al Signore per chiedere aiuto. Ma ci sono altri momenti invece in cui il nostro cuore non è aggravato da prove, ma è aggravato da desideri insoddisfatti. Dico una cosa che vi è nota, cioè dal volere qualcosa di più, dal desiderare ciò che non riusciamo a raggiungere, dall'affannarsi per raggiungere degli obiettivi. Qua non sto parlando di obiettivi spirituali, sto parlando della vita che svolgiamo ogni giorno e che a volte diventa un peso nella nostra vita perché non riusciamo ad ottenere ciò che vogliamo, un po' come dice Giacomo nella sua epistola. Ebbene, oggi, mentre avevo un dialogo con alcuni credenti, facevo proprio questa considerazione che voglio trasmettervi. Chi è Gesù? Gesù è il Re dei Re, è il Signore dei Signori, è l'Onnipotente di Dio, è il Figlio, Dio benedetto in eterno, il cui abita, che abita l'eternità e che è Signore sull'intero universo, il cui potere è infinito, la sua gloria è senza misura. E l'iddio meraviglioso s'è fatto uomo. Colui che era ricco d'eternità e in eternità s'è fatto povero per noi, così dice la parola di Dio, affinché noi fossimo arricchiti. Ed ero incuriosito dal modo in cui lui si è fatto uomo. Chi ha scelto per poter entrare nel mondo? Su chi Dio ha posto lo sguardo per essere una persona, dico così, voi mi comprendete, degna di ricevere il Figlio di Dio e di portarlo alla luce di questo mondo. In quale famiglia Dio ha scelto di farlo entrare? Quale ricchezze ha preparato dinanzi a lui? Quale grandezza e sfarzo hanno adornato la sua vita? È singolare. Egli, Dio, sceglie una giovane fidanzata ad un falegname di umili origini. Così umili che quando devono recarsi per il censimento si ritrovano nel momento più importante della nascita del loro figlio a dover entrare in una stalla e far nascere il piccolo ponendolo in una mangiatoia. Perché per loro non c'è spazio? Provate a riportarlo ai tempi di oggi. Immaginate se una cosa accadesse oggi così nella nostra Italia. Cosa titolerebbero i giornali? È scandaloso che accada una cosa del genere. È scandaloso che ai giorni nostri ancora una donna non venga accolta, assistita e che il figlio debba nascere in una mangiatoia. Ma Gesù entra così nel mondo. Entra con umiltà nel mondo. E la sua vita, la sua crescita in famiglia, non è la crescita tra i nobili, negli agi. Egli diventa apprendista nella bottega del padre. Egli diviene falegname e dà falegname. Impara a lavorare. Ma non è che ha un laboratorio di falegnameria ad alti livelli, con macchinari computerizzati. Lavora a mano, anche solo piallare una tavola di legno diventa un'impresa. È qualcosa fatto con fatica e che non produce chissà quale reddito. Ed egli cresce in una nazione povera, in una famiglia di umili origini, mentre i romani dominano su quella nazione, imponendo la loro autorità su tutta la cittadinanza. Ed egli cresce così. E quando poi arriva a manifestare il suo ministerio e comincia, egli, rivolgendosi ai discepoli che lo vogliono seguire, dice di se stesso che non ha un luogo dove poggiare il capo. Viene assistito da delle donne che credono in Dio e nel suo messaggio. E quando dopo una giornata intensa di evangelizzazione, dopo aver traversato un lago si ritrovano con tanta folla e Gesù chiede che cosa abbiamo da mangiare, che cosa avete tra le mani? La risposta è pochi pani e pochi pesci. È così che ha vissuto la sua vita. Nella totale umiltà, nel totale abbassamento. E ricordate quando andarono da Pietro e gli dissero ma il tuo maestro non paga la tassa per il tempio, la di dramma? Gesù. E per pagare che cosa fece? Gesù. Ma non è che avesse tutti questi soldi in tasca. Disse a Pietro vai, getta l'amo, il primo pesce che tira fuori aprilo perché troverai i soldi per pagare per me e per te. Ora, la ricchezza di Cristo è stata la sua relazione con il Padre e la sua missione in mezzo agli uomini. Egli non ha preteso nulla da questa terra ma ha vissuto nella massima umiltà. E io, riflettendo su questo, riflettendo come Egli abbia abbracciato la vita terrena con grande umiltà e con un profondissimo senso di dipendenza dal Padre ma anche di gratitudine, mi sono chiesto quante volte mi rivolgo a Cristo chiedendo per me qualcosa in più. quante volte mi pongo dinanzi a Cristo per chiedere a Lui di sollevarmi quasi stanco della mia condizione nel quale vivo. Quante volte mi pongo nella preghiera dicendo Signore dammi, 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 come se esprimendo questo manifestassi insoddisfazione per quello che vivo. Eppure io vi dico che noi oggi, rispetto a come ha vissuto Cristo, viviamo da Re. Ed è singolare il fatto che noi a volte viviamo oppressi dal senso di insoddisfazione. voglio farvi riflettere su alcune cose. Che cosa abbiamo da mangiare? I discepoli, ed erano in dodici, più Gesù risposero, pochi pani e pochi pesci. Voglio fare la stessa domanda a voi. Che cosa avete da mangiare questa sera? Sapete, a volte rifletto, vi condivido qualcosa in maniera molto familiare. Rifletto su quanto noi siamo ricchi. Ad esempio, io ogni mattina posso fare colazione nel modo che preferisco. E il latte non manca mai. La marmellata che preferisco non manca mai. E riesco a farlo nel modo che più gradisco. E quando apro il frigorifero ho solo l'imbarazzo della scelta. Non ci sono pochi pani e pochi pesci affumicati per essere conservati. Vivo in una casa che, rispetto a quella dove visse Gesù, è una reggia. Posso renderla fresca in estate e calda d'inverno. E ho l'acqua che mi corre da ogni rubinetto e posso scegliere di fare la doccia ogni giorno, alla temperatura che voglio e farla durare quanto voglio. Che cosa intendo dire? Intendo dire che noi dobbiamo imparare a scoprire la gratitudine per quello che la grazia ci ha concesso. E parlo delle cose materiali. Oggi voglio soffermare sulle cose materiali senza parlare di quelle spirituali che sono infinitamente più eccelsi. Ma noi dovremmo avere questo senso di profonda gratitudine per Dio. Perché Egli ha promesso che avrebbe provveduto per noi ogni giorno. E io mi stupisco. Sapete di cosa? che Dio ha provveduto per me e provvede ogni giorno per me più di quanto abbia provveduto nei giorni della vita terrena per Cristo. Intendo materialmente. Sto parlando solo ed esclusivamente di questo in questo momento. Ed è per questo che io non dovrei mai sentirmi aggravato da ciò che mi manca. E ogni volta che ci accostiamo a Cristo per chiedere qualcosa di materiale ricordiamoci però con quale sentimento lo stiamo chiedendo e soprattutto a chi lo stiamo chiedendo. Non perché noi non dobbiamo ardire di chiedere perché il nostro Dio è generoso ma per imparare ad avere un senso di gratitudine per tutto ciò che Dio ci dona. L'Apostolo Paolo in questo è un esempio straordinario e ci dice io ho imparato ad accontentarmi nello stato in cui mi trovo. Ho imparato a stare nell'abbondanza e ho ringraziato Dio per l'abbondanza ma ho parlato ho imparato anche a stare nella necessità ho affrontato difficoltà, ho affrontato ogni condizione ma in ogni condizione ho reso grazie a Dio e sapete se io mi confronto con la vita terrena di Cristo io devo dire Signore sono stupito della Tua grazia per come Tu provvedi quotidianamente per me. Ricordate quello che Gesù insegna nel nel sermone sul monte non siate con ansietà solleci di cosa mangerete di cosa berrete di che cosa vi vestirete perché il Signore provvede per voi ebbene io voglio dire grazie al mio Signore e in questa sera perché Egli è un Padre che provvede splendidamente e voglio chiedergli di non avere mai un sentimento di insoddisfazione per le cose di questo mondo voglio dirgli Signore grazia per tutto quello che fai Signore grazie perché mi tratti come un re Signore grazie perché provvedi per me in modo meraviglioso Signore grazie perché mi sento oggetto delle Tue cure Signore grazie perché mi dai molto, molto, molto di più di quello di cui ho bisogno Signore grazie perché quando penso a come Cristo ha vissuto e come Tu provvedi per me io ho solo bisogno di prostrarmi dinanzi a Te con un senso di gratitudine e di ringraziamento per dirti Signore sei fedele e ti prendi cura come un padre di me in ogni cosa Vedete a volte la nostra mente commette un errore perché tende a confrontarsi sempre con quelli che hanno di più per creare in noi un senso di insoddisfazione ma io quest'oggi per quel che riguarda le cose terrene voglio confrontarmi con la vita di Cristo e sentirmi profondamente privilegiato per come il Signore ha cura di me e voglio dire un'altra cosa se noi avessimo lo sguardo sulle ricchezze eterne ogni condizione su questa terra sarebbe comunque motivo di beatitudine per noi perché la nostra ricchezza non è fatta di cose terrene ma è fatta della gloria che Dio ci ha manifestato e di quella grazia che ci ha acquistato i beni eterni ebbene io voglio quest'oggi con voi dire al Signore Signore grazie perché un giorno ti sei fatto povero per arricchire noi e lo hai fatto in modo glorioso arricchendoci spiritualmente perché eravamo poveri e miserabili eravamo destinati alla morte ma tu lo fai ogni giorno anche materialmente perché io ve lo devo confessare Dio ha provveduto per me in modo così glorioso e provvede che quando mi confronto con la vita che Cristo ha vissuto devo dire Signore tu sei oltremodo generoso nei miei riguardi e provvedi al di là al di sopra di ogni mia necessità con la tua ricchezza e con la tua grazia per cui voglio sentirmi grato a Dio principalmente perché Cristo è la fonte della mia salvezza e perché il suo sacrificio mi ha dato vita ma voglio essere grato a Dio ogni giorno anche per ogni bene materiale che Lui provvede per me per ogni respiro per ogni abito per ogni cibo per ogni luogo dove posso riposare per la mia casa dove posso rientrare e per ogni ricchezza che io ho e che Cristo non ha avuto nel tempo della sua vita terrena Signore grazie 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 aiutami a far parte di questa tua grande provvidenza anche con coloro che hanno meno di me grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti